Va ora in onda, viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio BM con i dati forniti da viaggiareisicuri.it Benvenuti a un nuovo appuntamento con viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Questi i paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 25 marzo 2022. Paesi Bassi, a partire dal 23 marzo per l'ingresso nei Paesi Bassi non è più richiesta l'esibizione di alcuna documentazione relativa a vaccinazione, guarigione o tamponi. Tutti i viaggiatori dai 12 anni in su devono compilare una health declaration. Quest'ultima dichiarazione a carattere sanitario viene fatta compilare di norma direttamente dalla compagnia aerea, spesso in modalità digitale. Moldavia. La Moldavia ha riaperto parzialmente lo spazio aereo nazionale per aeromobili civili e statali consentendo la ripresa del trasporto a passeggeri. I voli consentiti in partenza e in arrivo non potranno sorvolare lo spazio aereo ucraino. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate da dato odierno, ovvero venerdì 25 marzo 2022. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Belunesi nel mondo. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiare sicuri.it